La procura di Padova indaga per lesioni colpose aggravate. Il fascicolo sulla caduta del pezzo di cemento dello stadio Appiani sopra un'auto lo scorso 28 marzo è ancora a carico di ignoti. I rapporti dello Spisale e della polizia locale sono stati depositati e ora il magistrato dovrà fare tutte le sue considerazioni e capire se quel giorno la strada doveva essere chiusa per garantire maggiore sicurezza nei lavori di demolizione della curva dello storico stadio del calcio Padova. Gli accordi tra comuni e la ditta appaltatrice del lavoro per l'esecuzione del cantiere prevedevano che via Marghera venisse chiusa da quando si iniziava a demolire la penultima campata. Quel giorno un probabile effetto fionda durante la demolizione della terz'ultima campata fece piombare il masso di cemento sopra la lancia musa guidata da una 57enne padovana che era insieme alla figlia adolescente. Il sasso rimbalzò sul tettuccio e poi frantumò il parabrezza. Le due donne rimasero leggermente ferite dalle schegge del vetro. Se il masso fosse precipitato direttamente sul parabrezza le conseguenze per loro sarebbero state ben più gravi.